Ragazzi ciao bentornati sul canale con un nuovo video Allora sono ancora in bagno Anche se oggi vado a truccarmi Non completamente, dobbiamo fare una cosa Un esperimento Quindi ho detto voilà, c'è una luce migliore Mi metto qua Allora oggi che cosa andiamo a fare? L'avrete capito dal titolo Allora andiamo a truccarci Con la spugna di mare, eccola qui Allora, non sono impazzita Io non lo sapevo questa cosa qua Sono stata al fare la cosa giusta a Milano E grazie anche al suggerimento della Roberta A cui mando un bezzone enorme E tra l'altro vi lascio qua giù il link Della sua pagina di Instagram Se volete seguirla, lei è dolcissima Insomma, seguitela in tanti Che così ci supportiamo a vicenda E siamo passate davanti allo stand di cose della natura Bene Allora, ci siamo fermate un attimo a chiacchierare con le ragazze E tutto quanto A un certo punto vedo queste mini spugnettine E la Roby mi fa Guarda che servono per il make-up Ho detto, come? Come per il make-up? E questa cosa mi era nuova E infatti mi hanno spiegato Che queste qui sono proprio spugnette adatte Per stendere il fondotinta Ovviamente sono delle spugne di mare Loro di cose della natura hanno tutto quanto Una linea vastissima Che vanno dalle spugnettine Per pulire il viso Le spugnettine per il corpo Spugnettine in questo caso per il make-up E quindi oggi andiamo a provarla E andrò ad applicare il fondotinta questo di Vegap Visto che non ve l'avevo mai fatto vedere Ma è anche un altro tra il fondotinta con cui mi trovo bene E quindi andiamo a provare lui Allora, questa volta me lo ricordo Raccolgo i capelli E mi è partito anche l'elastico tra l'altro Va bene Facciamo finire niente Ok Ovviamente proviamo solamente la base ragazze Per vedere come viene fuori Anche perché Ci metto tantissimo a truccarmi Qua davanti Poi vabbè non mi trucco più di tanto E vabbè Ok lasciamo stare cose mie Allora cosa mi hanno detto Di inumidirla leggermente sotto l'acqua Quindi adesso la prendo La inumidisco un attimo Non tantissimo Ma neanche troppo poco Ok Strizzatela bene Quindi strizziamola bene Vedete che si è già incicciottita un po' di più Sta cosa di dare il fondotinta con la spugnettina Tra l'altro mi dà un senso anche un po' di igiene Nel senso che poi una volta applicato La vado a rilavare sotto l'acqua Si lavano in un batter d'occhio Quindi tutte le sporcizie di impurità Vengono proprio Lavate via E mi sembra anche un po' più celica della blender Devo dire la verità Va bene Allora applichiamo intanto la BB cream Questa vi dicevo è di Vegap Ed è la colorazione che non troverò mai Colorazione, colorazione dove sei? Ve la farò sapere Che adesso questa mi sfugge Allora Ovviamente è una BB Cremosa Mi hanno detto di mettere il prodotto sulla mano Quindi anche quel calore si stende Ne andiamo a prelevare un pochettino E andiamo a Appicchiettarla su viso E ad applicarla Quindi la andiamo ad utilizzare Aspettate che ne metto un altro po' E andiamo a Proprio a stand Vediamo se non si fa un gusto brufolo La sto facendo ma la sto ridendo da sola E andiamo proprio a lavorare La nostra BB cream O il fondotinta Insomma quello che O il quale vi trovate meglio Su tutto quanto il viso Aspettate qua Non so se voi l'avete già utilizzata Per me è proprio la prima volta Mi sta piacendo eh Devo dire la verità mi sta piacendo Non ho mai utilizzato tipo le spugnettine Quelle in silicone Quelle robe lì Quelle lì mi hanno sempre fatto un po' di che Non lo so Quindi sono sempre stata molto O per il pennello Lo 03 di Puro Bio Che è quello con cui mi trovo Fino adesso meglio Oppure la semplice La normale blender insomma Non quella di Puro Bio Perché devo dire che l'ho buttata via Perché è sempre stata un po' troppo duretta E alla fine ho detto Non ti uso mai Non ne faccio niente Ora lì ho detto Vabbè Ed ecco Accopre bene Adesso non so se avevate fatto caso Prima che avevo dei brufoli Brufolini Vabbè Dei brufoli qua e anche sulla punta del naso E devo dire che li ha coperti molto bene Voglio provare a vedere Tra l'altro Questo magari ve lo farò sapere anche nel prossimo Magari video O provo a fare proprio un trucco completo Anche con i prodotti di Vegap Perché sono dei prodotti per il make up Che io utilizzo Lo sapete già da un paio d'anni Mi trovo molto bene anche con loro Scusate Sto registrando col telefono oggi Per quello Così lo muovo meglio Cosa ne dite Cioè secondo me Cioè ha coperto bene Veramente Poi allora La spugnetta Resta così Quindi poi la andremo a lavare Adesso andiamo a lavarla E vediamo Però è veramente figa sta cosa Si può dire Non si può dire lo stesso No no Stende molto molto bene Sono soddisfatto del risultato Cioè l'ho provata in diretta con voi Io vi ripeto Non l'avevo mai provata Ma è proprio Bene Sta cosa mi piace Roby Mi ha dato un super consiglio Di acquisto Poi tra l'altro 5 euro Quindi Costa anche meno di una blender Alla fine Non ho neanche messo il correttore Ma mi sembra che anche l'occaglia Non si veda più di tanto Bene Sono contenta Adesso andiamo a passarla sotto l'acqua Voglio vedere il risultato La passo solamente sotto l'acqua E non aggiungo saponi Non aggiungo nient'altro E guardate ragazze Cioè Parte qui che magari vediamo Se c'è un altro pacchetto Pazzesca sta cosa Voilà Spugnetta pulita Quindi l'avrete sempre pulita Ogni volta che andrete ad utilizzarla Rispetto alla blender Che di solito Non è che la andiamo a lavare Sempre Una volta a settimana E anche E se ci ricordiamo Però Promossa 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 Pieni voti Anche con il combo Della BBD Vagap Ma Veramente Bella Fatemi sapere Cosa ne pensate Se la utilizzate Anche voi Vabbè Questa vi ripeto È di cose della natura È una Un'azienda Insomma Molto conosciuta Che tra l'altro Ha sempre avuto Delle cose Molto interessanti Tutto sulle spugne di mare E Scrivetemi qua giù Nei commenti Che cosa ne pensate Del risultato finale Fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Se questa tipologia Di video Anche dove provo I prodotti Vi piace Insomma Quindi vi può far compagnia Io vi mando Un bacione enorme Mettete un bel like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao